Settos! Va! 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 Sì si va papà da narra noi bambino bambino calma pita eccoci 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 Iniziamo a scopo con dei roti torri di 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1 3 3 Un passo. Getra, getra. Welli 2015 veniamo in generale Quisino Pogba Ehi. No, no. No, no. We have a breakfast. Oh, no. All right. Good morning. Perdo, lo acabo di daria a proposito